Un uomo di 52 anni di Cosenza è stato tratto in arresto in flagranza di reato con l'accusa di detenzione illegale di arma comune da sparo clandestina con relativo munizionamento e detenzione di ingente quantitativo di sostanza stupefacenti. L'uomo era sotto controllo già da giorni da parte dei carabinieri della stazione di Cosenza centro in quanto erano state notate alcune movimentazioni in un magazzino del centro risultato poi di proprietà dell'arrestato. Dopo una serie di approfondimenti da parte dei militari è stato accertato come l'indagato avesse nella sua esclusiva disponibilità anche un secondo magazzino. Questa mattina poi è scattata quindi l'operazione nel corso della quale i militari hanno proceduto alla perquisizione personale e a quella dei due magazzini rinvenendo e sequestrando circa un chilo di cocaina, 19 chili di marijuana, cinque confezioni di metadone, quattro bilancini di precisione, una Smith & Wesson calibro 38 con matricola a brase e 47 cartucce dello stesso calibro. L'uomo attualmente si trova rinchiuso presso la casa circondariale di Cosenza a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente.